Buonasera a nostri telespettatori e bentrovati a questa nuova edizione del TG Noi Versilia che apriamo con la pagina politica arrivata all'ufficialità sulla candidatura di Ettore Neri a sindaco di Pietrasanta. Sarà dunque l'ex primo cittadino di Seravezza, l'uomo su cui punta il Partito Democratico. Sentiamo i particolari. Il Partito Democratico ha deciso. È Ettore Neri l'uomo su cui puntare per riconquistare il comune di Pietrasanta. Il direttivo del PD lunedì sera ha scelto all'unanimità il nome del due volte sindaco di Seravezza come candidato alle amministrative previste a maggio-giugno. A renderlo noto è la segreteria comunale DEM. Presente all'incontro anche il senatore Andrea Marcucci e il segretario versiliese Riccardo Brocchini. Nella serata Antonella Rosa, l'unico altro nome in lizza per le eventuali primarie, ha annunciato la decisione di ritirare la disponibilità a candidarsi. La sua scelta, maturata durante queste ultime settimane, si legge in una nota, nasce dalla necessità, sentita sempre più come prioritaria, di salvaguardare l'unità del partito. Resto comunque a disposizione del PD, ha dichiarato Rosa. Scongiurate dunque le primarie, temute per le divisioni che avevano generato nel 2010 e anche nel 2015. Il candidato sindaco dunque è Ettore Neri, che ha già tracciato una bozza di programma di lavoro da fare nelle prossime settimane. Il PD adesso si dice pronto a confrontarsi con le altre forze di centro-sinistra per le alleanze. Di sicuro un'alleanza non ci sarà con sinistra per Pietrasanta, la lista che riunisce i partiti della sinistra tradizionale, che correrà da sola. Entro fine gennaio il nome del candidato o della candidata sindaco. Nell'area politica resta solo da sciogliere il nodo di liberi uguali, che sembra almeno in parte destinata a seguire il PD. Sugli altri fronti al momento resta ancora tutto da decidere, sia nel Movimento 5 Stelle che nel centro-destra. Lasciamo la politica alla pagina di cronaca. Incidente a metà pomeriggio sull'autostrada 11 sulla Bretella Lucca-Viareggio. Per fortuna non ci sono state gravi conseguenze. Un'auto che viaggiava in direzione Viareggio si è cappottata all'interno della galleria di Bozzano. Nella macchina viaggiavano un uomo, una donna e anche un bambino di appena 18 mesi. Tutti e tre per fortuna sono usciti autonomamente dalla macchina e sono stati portati al Versilia per accertamenti in codice giallo. Dunque tanta paura, ma per fortuna non sembrano esserci conseguenze gravi. Sul posto i vigili del fuoco, il personale dell'assalta, l'automedica del 118 e anche la polizia stradale. Parliamo non di una autostrada vera e propria, ma della cosiddetta autostrada dell'acqua, di cui abbiamo già parlato ieri, la protesta in arrivo da parte dei comitati, la presa di posizione dura contro Gaia e la regione del sindaco di Camaiore del Dotto. Sentiamo perché. Prima la manutenzione dell'acquedotto esistente e la riduzione delle perdite in rete, poi i maxiprogetti. E' questa la linea del sindaco di Camaiore, Alessandro del Dotto, primo ad intervenire sul piano dell'autostrada dell'acqua approvato dall'AIT. Un sistema integrato per l'approvvigionamento idropotabile del litorale Apoversiliese e del sistema Lucca-Pisa-Livorno, con la razionalizzazione dell'uso delle risorse del Serchio, del Magra e del Bacino delle Alpe Apuane. Un tubone, in sostanza, che da Carrara arriverà a Massarosa, per poi proseguire fino a Livorno. Un'infrastruttura lunga 70 chilometri, dal costo monster di 150 milioni di euro, e la cifra è soltanto una prima stima. Dopo la sollevazione dei comitati, che mercoledì pomeriggio scenderanno in piazza a massa anche con rappresentanze della Versilia, il sindaco del Dotto è pronto a confrontarsi con la regione toscana e con Gaia. La priorità, ha scritto il sindaco, deve essere l'efficientamento della rete, visto che, dati alla mano, si parla di una percentuale di dispersione a causa di perdite occulte tra il 30 e il 40%. Quando avremo riportato questa percentuale a un livello accettabile e, per farlo, ci vogliono investimenti cospicui, allora potremo pensare a mirabolanti progetti milionari, ha concluso. Sul tema è contrario anche il Movimento 5 Stelle di Massacarrara. Ancora non si sono espresse le forze di centrodestra. Riportare le fermate dei treni regionali alla stazione vecchia di Via Reggio, Questa è stata la richiesta formulata oggi dal vice sindaco Walter Alberici e all'assessore regionale al trasporto Vincenzo Ceccarelli. Incontro fissato per fare il punto sulle nuove infrastrutture, si è parlato anche di Via del Mare. Abbiamo chiesto all'assessore la possibilità di ripristinare le fermate dei regionali. Fa sapere l'assessore, tutta la zona sarà poco a poco riqualificata. Per facilitare la mobilità dolce è previsto anche la costruzione di un sottopasso ciclopedonale. L'assessore si è impegnato in prima persona a farsi portavoce presso le ferrovie dello Stato per arrivare prima possibile ad un risultato. Fa sapere ancora l'amministrazione Via Reggina. Intanto procedono lavori per l'asse di penetrazione o Via del Mare. L'incontro è stato convocato proprio su questo per fare il punto. Si attendono gli atti urbanistici del Comune per realizzare il progetto definitivo. Sarà definito anche a breve dove realizzare la nuova palazzina che dovrà sostituire quella che sarà abbattuta necessariamente per fare spazio alla Via del Mare. Eviteremo aggiornati sui prossimi sviluppi. Dicevamo la vecchia stazione. Andiamo proprio nel parcheggio della vecchia stazione dove arrivano queste foto. Ennesima segnalazione di degrado e abbandono dei rifiuti. Cumuli di spazzatura intorno ai bisogni della SEA nel parcheggio scambiatore. La foto denuncia è apparsa su Facebook sulla pagina Via Reggio Mia. I raccoglitori li vedete, sono quelli della differenziata, stracolmi. I sacchetti vengono abbandonati ovunque. Una piccola discarica abusiva a due passi dalla Darsena del campo d'aviazione. I residenti della zona puntano al dito contro l'inciviltà di chi passa in auto e getta la spazzatura di casa. Preferendo questa soluzione, illegale, ricordiamo, alla raccolta differenziata porta a porta. Vengono dal campo d'aviazione dove c'è la raccolta porta a porta e senza neppure scendere dalla macchina tirano i sacchetti e la denuncia di chi abita lì in zona. Altri però dicono questo perché sono pochi i passaggi di SEA nelle zone coperte dal porta a porta e per questo c'è chi butta i sacchetti nei bidoni. Intanto queste sono le foto che circolano della zona. Parliamo adesso di carnevale. Vi parlavamo ieri delle nuove misure per la sicurezza al corso, ma ci sono misure antiterrorismo che interessano, come previsto dalla prefettura, anche le altre manifestazioni. I rioni che devono letteralmente farsi i conti in tasca per confermare le manifestazioni. In difficoltà la vecchia Viareggio potrebbe arrivare in soccorso il Carneval d'Arsena. Facciamo il punto. I costi della sicurezza fanno paura a molti organizzatori dei grandi eventi e tengono alcune feste in bilico. Come nel resto d'Italia, anche a Viareggio, per garantire la massima sicurezza a Carnevale, sono state attuate tutte le disposizioni previste dalle leggi vigenti per prevenire il rischio di incidenti durante eventi di massa. Ecco dunque che per i corsi mascherati 2018 e per le feste aeronali in Darsena e in Marco Polo compariranno dei New Jersey in alcune strade del centro, della passeggiata e dintorni. Una situazione alla quale bisogna abituarsi e che ha naturalmente un costo aggiuntivo per le amministrazioni comunali, così come per gli organizzatori privati. Costa molto, purtroppo non sappiamo ancora quanto di preciso, da settembre che siamo dietro per cercare di definire bene questi costi, domani abbiamo una riunione, domattina una riunione in commissariato, speriamo di sapere delle notizie in più, più precise, per quanto riguarda le prescrizioni che ci verranno richieste. Sicuramente un impegno molto, molto grande. Lo storico Rione Vecchia Viareggio, a causa dei costi per la sicurezza, sembra intenzionata a rinunciare alla festa. Ancora non è detta l'ultima parola, ma le difficoltà che si sono presentate sembrano allontanare il tradizionale appuntamento. Una mano agli organizzatori arriva dal Rione Darsena. Abbiamo dato la disponibilità quindi a studiare un'altra eventualità, quindi di fare la loro festa, che è giusto che rimanga la loro festa del Gioia di Grasso per i bambini, qui da noi. La prima festa rionale che andrà in scena alla cittadella del Carnevale, domenica 28 gennaio alle 15, è quella del Rione Croceverde. Il Marco Polo aprirà le sue cucine per tre giorni, venerdì 2 febbraio, sabato 3 e domenica 4. Una festa per bambini è organizzata dal Rione Torre del Lago alle 15 di sabato 3 febbraio al Teatro Puccini. Il Baccanale d'Arsenotto invece aprirà i battenti, venerdì 9 febbraio, per calare il sipario, martedì 13. Nuova ondata di maltempo sulla Versilia, scatta l'alerta Meteo Codice Arancione, a partire dalle 20 di martedì 16 gennaio alle 20 di mercoledì. Codice arancione per mareggiate e codice giallo per vento. La perturbazione che in veste la Toscana centro-settentrionale interessa anche la Versilia. Si parla di raffiche fino a 100 km orari lungo la costa e superiori sui crinali e versanti appenninici. In particolare per la giornata di mercoledì, l'attenzione sul nostro territorio, forte vento di libeccio su Viareggio in serata, chiuso già il viale dei Tigli, già da queste ore da parte del comune di Viareggio. Si avverte la popolazione di prestare la massima attenzione. A Pietrasanta, a titolo precauzionale, il commissario Giuseppe Priolo ha firmato un'ordinanza di chiusura del pontile di Tonfano dalle 20 di martedì alle 20 di mercoledì. Permanenza nei luoghi prospicenti la battigia sconsigliata e dunque massima attenzione per questa allerta meteo. Ricordiamo, codice arancione per mareggiate e codice giallo per vento dalle 20 di martedì alle 20 di mercoledì. Cambiamo argomento, parliamo di lavori pubblici, andiamo a Querceta. Vediamo. Stop agli allagamenti in Via delle Contrade a Querceta. Sono partiti, e già a buon punto, i lavori per la realizzazione di un nuovo tratto di fognatura bianca, inseriti nel pacchetto da 200.000 euro varato dall'amministrazione. Le opere di Via delle Contrade hanno un costo approssimativo di 75.000 euro. Puntano innanzitutto a regimare le acque piovane e a contrastare i fenomeni di ristagno che da tempo interessano sia il lato mare di Via delle Contrade, sia la via Tagliamento, così ha spiegato l'assessore ai lavori pubblici Giuliano Bartelletti. Contestualmente alla fognatura bianca verrà realizzato un nuovo tratto di pista ciclo pedonale, comodo collegamento per chi dalla Rotonda del Gallo, ovvero dal centro di Querceta, desidera raggiungere a piedi o in bicicletta il centro sociosanitario della Croce Bianca e del distretto Asl. Il nuovo tratto si congiungerà con la nuova ciclopista che porta fino alla piscina comunale al confine con Forte dei Marmi. Lavoro in arrivo spiega ancora l'assessore Giuliano Bartelletti anche per il vicino parcheggio di piazza Falcone Borsellino, che sarà anche ampliato. 14 posti auto saranno ricavati nell'area lato mare, spostando altrove le piante di olivo presenti. Un piccolo bottino di capi di abbigliamento, tutti quanti di marca, probabilmente oggetto di furto, abbandonati in un terreno di collina a Capriglia, a Pietrasante. Questo ritrovamento fatto dai carabinieri della locale stazione, rinvenuti diversi oggetti di vestiari, scarpe, scarpe firmate, un cappotto, una pelliccia, li vedete in questa foto, anche occhiali da sole, borsette. I militari ancora non sono riusciti ad individuare i proprietari degli oggetti. Chi avesse informazioni è pregato di contattare la stazione di Pietrasanta, il sospetto dei carabinieri che si tratti appunto di merce rubata durante qualche furto in abitazione in Versilia. Si è conclusa con il sequestro di 5 ovuli di cocaina, l'operazione che ha visto impegnata nella pinetta di Ponenta a Viareggio la squadra antidegrado della Polizia Municipale. Sono stati fermati i due uomini di circa 40 anni, entrambi viareggini. La loro perquisizione ha portato al sequestro dello stupefacente. Si parla di 4,5 grammi. Il primo è stato segnalato come assuntore alla Prefettura, per il secondo, visto il quantitativo di droga in possesso, è scattata la denuncia all'autorità giudiziaria. Nell'arco della serata sono state identificate altre tre persone e controllati i veicoli sospetti. In uno di questi il conducente viaggiava con patente scaduta. Multa dunque fino a 5.000 euro. I servizi di controllo per la prevenzione sul consumo e sullo spaccio di droga, spiega l'assessore alla sicurezza Maurizio Manzo, continueranno anche nei prossimi giorni. Si avvicina il 27 di gennaio. A Viareggio inizia il carnevale, ma in tutta Italia. E ovviamente anche a Viareggio in Versilia è la giornata della memoria. Un'iniziativa già annunciata dal Comune è la dedica alla vittima della persecuzione razziale Luciana Pacifici della passerella sul lungomolo di Viareggio. Verrà intitolata la piccolissima Luciana Pacifici, vittima delle persecuzioni razziali, la passerella sul canale Burlamacca. Lucia era nata a Napoli da padre Viareggino nel 1943 ed è morta ad Auschwitz l'anno successivo. L'iniziativa, che si terrà a Villa Paolina alle 10.15 di lunedì prossimo, rientra nell'ambito delle celebrazioni per la giornata della memoria. Anche la città di Viareggio vuole lasciare un segno indelebile a memoria di tante persone che sacrificarono la vita per donare la libertà alle future generazioni. Alla cerimonia interverranno il sindaco del Ghingaro, Paolo Molco, rappresentante della comunità ebraica di Viareggio, il giornalista Nico Pirozzi e Lampi Viareggio Versilia. Leggendo i giornali in questi giorni, spiega il primo cittadino, sono venuto a conoscenza della storia di Luciana Pacifici. Aveva solo otto mesi, era nata nel capoluogo partanopeo, ma figlia di un viareggino e catturata a Cerasomma, frazione del comune di Lucca. La piccola Luciana, di fatto, è stata la vittima più piccola della Shoah nella città di Viareggio. Al termine della cerimonia Palazzo Paolina si terrà l'inaugurazione della targa, alla passerella, sulla Burlamacca. Sempre a Villa Paolina, ma il 3 febbraio, alle 15.30 in programma l'incontro Triangoli Rosse a Viareggio, la deportazione nei campi di concentramento, in collaborazione con ISREC, Lucca, Ampi Versilia, Associazione Terre di Viareggio e Fondazione Carnevale. Nell'ambito delle celebrazioni della giornata della memoria si terranno anche giovedì 25 gennaio alle 10, al Gran Teatro Puccini a Torre del Lago, la proiezione del documentario La vita si racconta, realizzato da Franco Galimberti. Un evento dedicato alle scuole, organizzato dal comune di Viareggio, in collaborazione con l'associazione Le Nostre Radici. Con la cronaca ci fermiamo, tra poco riprendiamo con un'ampia pagina sportiva, tra pochissimo. Ben ritrovati con la pagina sportiva del TG Noe Versilia, che apriamo con una buona notizia per il CGC Viareggio, è arrivato l'esito della Corte Sportiva di Appello sul ricorso presentato dal centro per le squalifiche combinate al giocatore Ventura e è stata ridotta la pena, è stata tolta una giornata di squalifica, in sostituzione è arrivata un'ammenda di 1000 euro, così ha stabilito il giudice della Corte Sportiva di Appello e dunque Ventura potrà giocare sabato contro i Lodi. Lasciamo l'ok, veniamo adesso al calcio, dopo il derby della provincia di Luca di Serie D tra Viareggio e Ghiviborgo, è il momento delle analisi da parte degli allenatori, parlano Carlo Bresciani e Simone Venturi, i due tecnici, sentiamo. Dopo il derby del campionato di Serie D tra Ghiviborgo e Viareggio, ascoltiamo adesso i due allenatori, Carlo Bresciani e Simone Venturi. Mi dispiace di aver regalato il primo tempo, sinceramente, erano anche partiti bene, ha preso due gol, che una squadra come la nostra non può prendere, una punizione dritta per dritta, lasciare solo uno come Di Paolo in area di rigore e poi un tiro da lontano. Secondo me Cipriani era messo forse un po' fuori, non si aspettava il tiro e diciamo che va beh, può essere un mezzo infortunio. Ma quello che mi è dispiaciuto è proprio l'atteggiamento della squadra del primo tempo, perché il secondo tempo, come è stato dimostrato dalla gara, quando noi attacchiamo un pochettino più alti, diventa difficile far giocare anche loro. Il primo tempo i loro centrocampisti erano sempre liberi di giocare a metà campo e mi sono un pochettino veramente arrabbiato nello spogliatoio, anche con la difesa, che deve essere in grado di spingere i nostri centrocampisti più alti per andare a prestare un attimino più alto. Abbiamo fatto una buona prestazione, peccato aver preso questo 2-2 che l'abbiamo forse accusato un po' troppo, perché fino a quel momento credo che meritassimo il vantaggio che avevamo acquisito, anzi, potevamo chiuderla con Di Paola, appena un secondo prima praticamente. Ecco, il Viareggio dice che ha regalato il primo tempo, ecco, in quel primo tempo voi probabilmente potevate vincere la partita. Ma ora, credo che il regalo l'abbiamo fatto noi in occasione del primo gol. Poi abbiamo avuto una grande reazione, abbiamo fatto un grande primo tempo e credo che sia più un merito nostro che un merito loro, lo dico sottolineandolo. La parola ai due bomber che sono andati in gol, Giacomo Vanni del Viareggio e Francesco Di Paola del Givi Borgo. I due attaccanti rispettivamente di Givi Borgo e Viareggio sono andati a segno nel derby, centrando l'obiettivo che si erano prefissi alla vigilia. Vanni, ex di turno, ha realizzato l'undicesimo gol stagionale. Ciccio Di Paola, anche lui ex, ha realizzato il nono centro. Quindi tutto sommato per loro un campionato più che positivo. Oggi e la prossima domenica gioco con due squadre che ci ho giocato in eccellenza. Io trovo sempre delle persone a cui sono legato, però quando gioco non ce n'ho tanti amici. Quando nel primo tempo il Viareggio è passato un vantaggio, dopo il Givi Borgo ha recuperato, c'è stato un momento in cui hai avuto paura di perdere questa partita? No, sinceramente no, anche perché so che la squadra nei momenti di difficoltà viene sempre fuori. Ci diamo una mano, a fine del primo tempo ci siamo parlati e abbiamo detto dai ragazzi che questa partita si può recuperare. Secondo me, se eravamo un po' più cattivi, si poteva anche vincere. Abbiamo fatto una punizione provata, poi sai che per fare gol serve sempre l'errore della squadra avversaria. Ultimamente quando vedevo bianco-nero, insomma, perché le ultime due volte, anche oggi la terza non ho mai vinto, però sono contento di aver fatto gol. Peccato perché eravamo stati bravissimi in primo tempo a ribaltarla e poi siamo stati un pochino ingenui, ne faccio rimontare forse nel nostro momento migliore dove stavamo giocando per fare il 3-1, però alla fine il pareggio è giusto. Alla fine hai avuto paura di perdere perché ci è mancato proprio un attimo, no? Infatti il calcio è così e alla fine se Giacomo Manni arriva sulla palla perdiamo una partita che secondo me non meritavamo. È stata una bella partita, equilibrata, combattuta, pareggio giusto per come si era messa, forse qualche recriminazione in più noi alla fine dell'occasione del Viareggio. È così, dai. Parliamo adesso della Viareggio Cup. Una partita del girone eliminatore di questa edizione numero 70 della Viareggio Cup sarà disputata nel nuovo stadio Sardegna Arena di Cagliari a conferma della presenza della formazione isolana alla manifestazione giovanile. L'annuncio l'ha dato il presidente del comitato organizzatore del torneo Alessandro Palagi. Un anno fa il Cagliari era stato protagonista alla Viareggio Cup mettendo in evidenza il nord coerano Han Wang Song che dopo il torneo debuttò in Serie A segnando anche una rete contro il Torino ora in prestito al Perugia in Serie B diventato un uomo a mercato nel mirino della Juventus. Pensate la sua valutazione oggi si aggira intorno ai 12 milioni di euro. Scendiamo adesso invece di categoria, in seconda categoria per fare il punto delle versiliese con Roy Lepole. Il Corzanico ha vinto per il campionato di seconda categoria al girone A1-0 con la Fenattierese grazie alla rigore trasformato da Corsinelli di cui si riferiscono le immagini di Mondo Calcio Versilia. I Corzinelli sono al terzo posto in classifica in testa c'è l'Actore Laghese con 8 punti di vantaggio sull'Atletico Carrara. Ai microfoni di Carlo Cosci con le immagini di Nicola Bergamini l'allenatore della filattierese Luigi Della Zoppa e l'allenatore del Corzane con Luca Lazzarini. Credo che abbiamo giocato una buona partita venivamo da un periodo no però tutto sommato io sono contento lo stesso della prestazione se giochiamo a questi livelli sono convinto che ci tiriamo fuori dalle salmi bondi. Partita vinta con tanta sofferenza con tanti assenti perché avevamo ben sette giocatori fuori oggi tra infortuni, squalifiche, ammalati quindi diciamo che è stata una partita comunque combattuta da entrambi i fronti e siamo stati bravi a sfruttare quell'occasione e soprattutto abbiamo trovato il gol quando eravamo in 10 contro 11 e ultimamente le espulsioni per noi forse sono un po' troppo facili arrivano dal nulla così però vabbè, l'importante è aver vinto. Lasciamo il calcio, il karate adesso una medaglia d'oro, 5 d'argento e 8 di bronzo rappresentano il bilancio a dir poco positivo conquistato dai portacolori della palestra Juncandoio di Vado di Camaiore alla Coppa della Befana con sueta manifestazione di karate riservata ai giovani karateca che si è svolta nei giorni scorsi a Montecatini organizzata dai maestri Bacchi e Ferri insieme all'istruttore Verecchia sul gradino più alto medaglia d'oro dunque Maurizio Graniani è soddisfatto il team versiliese ed è tutto anche per la pagina sportiva ritorniamo tra poco con gli eventuali aggiornamenti Ben ritrovati, terza parte del nostro telegiornale non ci sono aggiornamenti di cronaca prima di salutarci ci sono gli auguri nella nostra consueta rubrica questa sera gli auguri di buon compleanno vanno a Leonardo Livi di Viareggio super tifoso della Juventus festeggia oggi il suo compleanno auguri da parte dei parenti, degli amici e dei familiari del bagno novantesimo minuto di Focette è davvero tutto per questa edizione vi ringrazio per essere stati con noi e auguro a tutti voi un buon proseguimento di serata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti